Tra italiani di origini napoletane di età compresa tra i 44 e i 46 anni sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dagli agenti di polizia stradale di Fano per il reato di truffa ed esercizio abusivo dell'attività di commercio per aver tentato di vendere tablet e telefonini con la tecnica del pacco e contropacco. Il terzetto è stato intercettato dalla Pottuglia in servizio lungo l'A14 nell'area di servizio Foglia Ovest di Pesaro nel tardo pomeriggio di domenica mentre i tre patacari cercavano di rifilare ai malcapitati avventori un tablet ed un telefonino di una nota marca contenuti in una valigetta a prezzi molto vantaggiosi. I tre mettevano in pratica la vecchia ma sempre efficace tecnica dello scambio delle valigette. L'incauto acquirente nel momento del pagamento viene distratto ed il complice del venditore scambia la valigetta con una contenente solo due pacchi di sale. Pacco e contropacco appunto ma ai truffatori è andata male perché alla vista degli agenti benché abbiano tentato di scappare sono stati fermati e il loro raggiro scoperto e naturalmente tutti e tre denunciati. La polizia stradale proseguirà nel prossimo periodo controlli mirati proprio per prevenire reati di questo genere e mette in guardia tutti gli utenti della rete autostradale a prestare particolare attenzione a non accettare proposte di acquisto di merce di dubbia provenienza o a prezzi palesemente sotto costo.